E cambiamo argomento, ci sono grandi novità per quanto riguarda la viabilità in Alto Adige. Al via infatti i lavori dallo svincolo Mebo per Lagundo allo svincolo della stazione per realizzare il primo lotto della circonvallazione nord-ovest di Merano, questo per liberare la città dal traffico. Con un simbolico colpo di pale piccone, il presidente Luis Dornwalder e gli assessori Berger, Leimer e Musner hanno dato il via ufficiale ai lavori per la creazione della circonvallazione nord-ovest di Merano, un progetto imponente che prevede due lotti. I lavori del primo, dallo svincolo Mebo per Lagundo allo svincolo della stazione ferroviaria di Merano, come viene illustrato in questa animazione, si concluderanno entro settembre 2012. Il progetto prevede che la circonvallazione attraversi Merano prevalentemente sottoterra. Si svilupperà dalla parte ovest della città, nel territorio comunale di Lagundo, all'altezza del nuovo collegamento tra la strada della Valpa Siria e la Mebo. Da qui in poi la circonvallazione proseguirà sotto i frutteti fino alla stazione ferroviaria. Ma è ovvio che non vogliamo costruire solo il primo, perché il primo lotto va solo fino alla stazione. E portare tutto il traffico fino alla stazione non avrebbe senso, perché poi devi andare o in Valpa Siria o verso Ressia. E perciò dico che noi dobbiamo trovare una soluzione immediata anche per il secondo lotto. Attualmente stiamo elaborando il progetto e dopo dobbiamo trovare anche i finanziamenti. Dobbiamo fare una gradatoria in modo tale che tutta l'arteria di circonvallazione venga finanziata. Il primo lotto andrà a comprendere le opere allo svincolo Mebo, con ponte in cemento armato di 70 metri sopra la rotatoria della circonvallazione, argini con barriere antirumore lungo la zona residenziale Maria Assunta, un tratto sotterraneo di un chilometro tra la Mebo e la stazione e ancora lo svincolo per la stazione ferroviaria di Merano su tre piani. Lavori che dovrebbero durare all'incirca due anni. I costi di costruzione complessivi dei due lotti si aggirano sui 153 milioni di euro. Il tempo di percorrenza, da parte a parte, sarà di circa 4 minuti per un totale di circa 3 chilometri.